Questa scelta, perché conosco la società, conosco il presidente, il direttore mi ha voluto fortemente e poi ho visto il gran lavoro che ha fatto il mister Zaudi l'anno scorso a San D'Arcangelo è un progetto che mi ispira e quindi ho accettato molto sia per questo progetto che per la piazza. È una stagione importante, ci siamo tolti tante soddisfazioni a livello personale, penso che si è andata più che bene e proprio per questo c'è il direttore che mi conosce, quindi ha spinto molto di più e siamo riusciti a fare questo matrimonio. Ho fatto l'anno scorso questi gol, venivo da tre anni l'Inter regionale dove sempre sono andato in doppia cifra per alcune scelte mi ero avvicinato più che altro a casa e gli anni passati ovviamente ho fatto sempre la vecchia C2 dove sempre si sono andato in doppia cifra e anche in piazze abruzzesi. Obiettivi proprio a livello di gol non me ne sono dati, cercherò sicuramente di fare il più possibile di sudare la maglia e di dare sempre il massimo, quindi anche per scaramanzia preferisco non darmi obiettivi. Eramo è una piazza che tutti conosciamo, una piazza importante, una piazza dove è esigente e poi il fatto che l'anno scorso c'erano due ragazzi in attacco, due bomber come Lapadula e Tonnarumma diciamo questo per me è uno stimolo in più perché vorrei lasciare magari un segno.